Io sono contenta, perché a volte tornando indietro dico anche come ho fatto, a volte chiedo anche come ho fatto. Ce lo chiediamo anche noi. Una cosa che volevo chiedere era questa, c'è un rimpianto, una cosa che farebbe diversa a posteriori? No, no. Io quando, come le dico mio padre, quando ho preso la latteria, mi ha detto sei contenta, mi dice, ho detto, un momento, con 7 milioni di debiti, 53 anni fa erano tanti, debiti. È il primo anno di lavoro della latteria. È il primo anno che io ho uscito dalla fabbrica e mi dice sei contenta della latteria, sei scondita, mi dice guarda che ho poco terreno, perché eravamo in dieci, avevo un po' di terreno, non farmelo vendere. Così. E di no, io avrei fatto la pettinatrice. Però... Però... Questa cosa non si inventava se faceva la pettinatrice. Non la pago tutta a zero. Non la pago tutta a zero. No. No. Grazie a tutti.